Un paio di giorni fa era l'8 marzo, la giornata internazionale della donna, anche se qualcuno sembra che l'abbia scambiata per la giornata internazionale del vittimismo e della misandria, anche se a me piace di più chiamarla come giornata internazionale del content per tweener, perché questo è ormai il terzo anno di fila in cui ci ritroviamo per commentare e farci due risate su tutti i peggiori post pubblicati sulla festa della donna. È infatti pubblicato come di tradizione questa storia su IG, dove se non mi seguite ancora potete rimediare, in cui vi chiedevo di mandarmi tutto il peggio di ciò che vi capita di vedere sui social in quel giorno e così avete fatto. E me ne avete mandati come sempre davvero tantissimi e per questo vi ringrazio per il vostro aiuto. Ogni anno è un po' come Goku che alzando le mani chiede aiuto a tutti i terrestri, io vi chiedo aiuto per mandarmi i peggiori post sulla festa della donna. Come sempre prima di cominciare, se siete nuovi assicuratevi di iscrivervi perché siamo vicinissimi ai 200.000, grazie di cuore a chi lo farà. Bene, come ogni anno ci sono degli eventi che sono successi nei giorni precedenti all'8 marzo che influenzano un po' i post a chi appa like. In questo caso gli eventi sono due. La prima è la tragica morte del creatore di Dragon Ball, una notizia che personalmente mi ha colpito molto perché Dragon Ball per me, come per tantissime altre persone, è stato parte della mia infanzia. A questo punto però forse vi chiederete che cosa centri con la festa della donna. Beh, dato che la notizia è stata resa pubblica l'8 marzo, tantissimi fan hanno cominciato a fare dei post e delle storie dedicate al creatore di Dragon Ball. E che così tanto spazio venisse dedicato a questa notizia, a delle femministe, non stava molto bene. Tant'è che alcune di loro si sono arrabbiate per questa cosa, addirittura arrivando a fare delle teorie del complotto secondo cui la morte l'avrebbero annunciata quel giorno per togliere spazio alle donne. Ad esempio nei commenti dei contenuti che ne parlavano c'è chi ha scritto questo. Io invece penso che sia proprio per togliere l'attenzione ai diritti delle donne. Già, manco veniamo ascoltate, per raggiunta ci tolgono l'unico giorno di merda dedicato a noi. Eh sì, guarda, sicuramente è successo solamente per quello. Figurati se le persone sono davvero tristi per il creatore di un cartone che ha segnato l'infanzia di milioni di persone in tutto il mondo. Vogliono sicuramente soltanto togliere l'attenzione ai diritti delle donne. Mi ricordo quando era stata data la notizia della morte di Maradona il 25 novembre e anche lì delle ragazze le hanno arrabbiate perché stavano dando importanza a quella notizia. E c'era la risposta ormai leggendaria di uno che ha scritto Maradona muore una volta sola le donne tutti i giorni. E anche in questo caso giustamente hanno fatto il remake cambiando le parole di quel meme per renderlo aggiornato a questo evento. La seconda notizia virale di questo periodo che ha influenzato un po' l'andazzo di questo 8 marzo è la questione della Ferri che ormai ci sta attormentando. Ma in particolare è per la copertina dell'Espresso che ha deciso di ritrarre Chiara Ferragni con il trucco di Joker. Ora, qui qualcuno l'ha trovato di cattivo gusto, altri no perché comunque quel giornale l'ha fatto con tante altre persone. Ma onestamente di questo ci frega poco perché non siamo nella nuova puntata della serie di Ferragni per ora. Quello che però ci interessa notare è che per molti giornali e molte persone all'improvviso quello sarebbe diventato un attacco contro tutte le donne e non solamente la Ferragni. Questa copertina non c'entra nulla con il giornalismo e solo di una violenza inaudita. Per di più in una giornata dedicata alle donne domani mi raccomando inondateci di mimose. E questo è solamente uno perché ce ne sono tanti altri. Ad esempio, sbatti il mostro in prima pagina perché la copertina dell'Espresso su Chiara Ferragni mortifica le donne. E la cosa assurda è che se andiamo nella descrizione non viene nemmeno spiegato nel dettaglio la ragione per la quale attaccare la Ferragni più o meno giustamente dovrebbe mortificare tutte le donne. Mettono solamente alla fine qualche riga in cui dicono questo. La stampa non può non tenere in considerazione il risentimento che questa rappresentazione quasi misogina ha provocato. Quasi misogina. Cioè ragazzi, qui veramente mi sa che stiamo completamente perdendo il significato reale che hanno le parole. Tutte le volte che questo stesso giornale ha fatto copertine simili sugli uomini nessuno ha mai parlato di presunta misandria. Che poi mi sembra palese che Chiara Ferragni non sia criticata perché donna ma per quello che ha presumibilmente fatto e di cui è accusata. E soprattutto che lei non rappresenta tutte le donne di questo mondo mi sembra altrettanto ovvio. Ma quanto pare la lezione di oggi è che non puoi criticare una donna come hai sempre fatto con gli uomini perché altrimenti qui è misandria e odi tutte le donne. Altro post che mi avete mandato è questo di una pagina Instagram che ha chiesto alle sue followers cosa non possono fare in quanto donne. E qui arriviamo ad un altro punto fondamentale di cui volevo parlarvi. La maggior parte dei post sulla festa della donna vengono letteralmente riciclati anno dopo anno con qualche minuscola differenza. E nell'esempio che vedremo dopo è un caso che ha dell'incredibile. Ma insomma l'anno scorso se non sbaglio Scuola Zoo aveva fatto un post praticamente identico in cui faceva la stessa domanda. Solo che dato che ovviamente in Italia non esistono diritti che gli uomini hanno e le donne no. In quel post dell'anno scorso c'erano cose senza senso tipo andare in vacanza con gli amici. Vediamo se in questa edizione del 2024 invece ci saranno finalmente degli esempi di cose che le donne in Italia non possono fare in quanto donne. Vediamo. Farmi la frangetta perché la parrucchiera mi disse che era da... Ok sembra che sia passato un anno ma ancora questa gente non è capace a rispondere con degli esempi pertinenti. Se la tua parrucchiera ti dice che sembri una troppa con la frangetta hai semplicemente peccato una parrucchiera che fuori di testa. Ti assicuro che ho visto tante ragazze con la frangetta in Italia e nessuna di loro è ancora stata arrestata quindi sono piuttosto sicuro che si possa fare. Altra risposta alle cose che le donne non possono fare in quanto donne sarebbe che esistono ancora forti pregiudizi sulle donne guidatrici. Nonostante i dati dimostrino il contrario solo il 24% degli incidenti stradali è causato da donne contro il restante 76% da uomini. Penso che qualsiasi persona con un bricciolo di spirito critico abbia già capito cosa c'è che non va in queste statistiche. Il fatto che la maggior parte degli incidenti siano causati dagli uomini non vuol dire che guidino peggio del donne se il numero di chilometri che guidano i due generi sono diversi. Infatti gli uomini guidano molto più delle donne. Basta pensare a tutti i lavori come tassisti, camionisti, autisti di autobus dove la sta grande maggioranza sono uomini. Ma anche nella vita di tutti i giorni sono molto più spesso gli uomini alla guida rispetto alle donne. Ma fondamentalmente chi guida meglio o peggio non lo so, si potrebbe approfondire, ma di sicuro con quei dati non dimostrano nulla se non che chi li ha usati non ha molto chiaro come funziona la statistica. La prossima slide dice che alcuni sport vengono considerati esclusivamente maschili e che una ragazza voleva iscriversi alla squadra di rugby più vicina ma era solamente maschile. Questa finora è la risposta più coerente con la domanda perché effettivamente non ha potuto iscriversi per il suo genere perché non c'era la squadra femminile vicina a lei. Sarebbe interessante però capire il motivo e mi vengono in mente due scenari. Il primo è che i gestori di quella squadra sono dei misogini e non vogliono ragazze. La seconda è che non ci sono abbastanza ragazze in quel centro specifico che si vogliono iscrivere e quindi non c'è una squadra e dunque si deve rivolgere a una squadra più lontana. Penso che la seconda sia l'opzione più probabile e se fosse così, per quanto capisco che sia fastidioso per lei, del resto se non ci sono abbastanza ragazze interessate per formare lo stesso numero di squadre maschili non è che puoi costringere delle ragazze a fare quello sport, purtroppo ti tocca andare ad allenarti in una squadra più lontana. Il prossimo post è questo che si dice 8 donne su 10 in Italia percepiscono freni al proprio sviluppo di carriera e 6 su 10 si sentono spettatrici della loro vita con scarso margine di intervento. Questo l'ho trovato abbastanza particolare perché ormai per vedere discriminazioni più di quante ce ne siano realmente siamo arrivati a usare non solo dati falsi come con tutta la manfrina sul gender pay gap che vi ho risparmiato in questo video perché ci sarebbero mille post anche su quello, ma penso che ne abbiamo parlato già fin troppo in passato. Ora addirittura siamo arrivati a basarci sulla percezione dei presunti freni alla carriera delle donne, quando sappiamo tutti, o perlomeno dovremmo saperlo, che la percezione e la realtà delle cose a volte possono essere molto lontane. E su questo c'è uno studio molto interessante di questa università che ha fatto un esperimento prendendo circa 50 persone dicendogli che avrebbero fatto un esperimento per vedere come vengono trattate le persone con delle cicatrici evidenti sul volto. Questi partecipanti che in realtà non avevano queste cicatrici sono stati truccati da questa makeup artist che ha disegnato delle cicatrici sul loro volto. Solo che un secondo prima che iniziasse l'esperimento li ha richiamati dicendo che doveva modificare una cosa, ma in realtà ha cancellato tutto senza diglielo. Quindi questi partecipanti erano convinti di avere questa enorme cicatrice sul volto ma che in realtà non c'era. L'esperimento è cominciato, si sono confrontati con delle persone nel mondo reale e una volta finito l'esperimento tantissimi di loro hanno riportato di aver subito discriminazioni per questa cicatrice, di aver ricevuto dei commenti negativi, degli sguardi fastidiosi e che sono stati maleducati. Ma in realtà questo non poteva succedere perché la cicatrice non c'era. E questo penso che sia un'enorme dimostrazione di come questa mentalità da vittima influisce sulle persone. Se continui a dire a qualcuno che è oppresso, discriminato, come fa il femminismo con le donne e anche altri gruppi, fa finire che ti convinci davvero che sia così e interpretare ogni cosa negativa che ti succede non come una tua responsabilità o semplicemente come quella persona ti ha trattato per qualsiasi motivo, ma l'ennesima discriminazione che hai subito solo per il tuo genere, quando in realtà a volte non c'entra niente. Altro post che mi avete mandato in molti è questo, buon 8 marzo un c***o e questo è quello a cui mi riferivo poco fa. E quando mi avete mandato questo messaggio ho cominciato a pensare che forse a furia di vedere tutti questi post deliranti stavo diventando pazzo anche io perché avrei giurato di aver già visto questo stesso identico post l'anno scorso. Così sono andato a vedere se questa pagina l'aveva pubblicato anche l'anno prima, scrollando il suo feed, ma non c'era, o almeno io non l'ho trovato. Sono così andato a rivedermi il mio vecchio video sulla festa della donna e ho ritrovato lo stesso identico post pubblicato da questa pagina. Ragazzi rendiamoci conto che ormai le stesse identiche immagini vengono riciclate di anno in anno e anche la descrizione è estremamente simile, lamentandosi di come le donne vengano pagate meno, dimenticandosi però di dire che il gender pay gap non si basa su condizioni identiche di lavoro, straordinari, trasferte, turni e tutti gli altri fattori e che è assolutamente illegale pagare una donna meno di un uomo per lo stesso identico lavoro, anche perché banalmente tutte le aziende dovrà assumerebbero solamente donne se potessero pagarle meno. Ma tutto questo non interessa perché ovviamente chi mette like a questi post e li condivide nelle storie vogliono solamente sentirsi dire quanto sono vittime e discriminate. L'ultimo post che vedremo è questo che dice che l'Italia non è un paese per donne a quanto pare, parole veramente forti, sarà perché le donne sono la maggior parte delle vittime di omicidi, suicidi, di senza tetto, morti sul lavoro, vittime di aggressioni per strada, ah no quelli sono gli uomini, anche qui è per il famigerato gender pay gap. Tra l'altro penso che gli admin di questa pagina dovrebbero un attimo mettersi d'accordo perché giusto qualche ora prima avevano pubblicato un post in cui ci dicevano che l'Italia è quarta al mondo per numero di miliardarie donne, cioè capiamo un attimo, mettiamoci d'accordo e per favore cari femministe parlo direttamente a voi stavolta. Per il 2025 fatemi il favore di inventarvi qualche post nuovo in motivi di ciclare sempre le solite due stronzate che prendete dalla cartella 8 marzo. Poi capisco che il pubblico medio di questi contenuti vuole solo vedere fanculo le mimose, fanculo gli uomini, ne veniamo pagate meno per lo stesso lavoro e non abbiamo diritti. Cosa vuoi sapere quali diritti non abbiamo e dei dati che le donne vengono pagate meno di un collega uomo a pari condizioni? Beh non ce li abbiamo però io mi percepisco pressa. Pensati o pressa per fare un omaggio alla ferry, sempre nei miei pensieri e sempre nel mio cuore. Va bene che anche io sto usando la testa copertina delle altre edizioni ma quello ormai è un marchio di fabbrica, è leggendario direi a questo punto. In ogni caso ragazzi non penso che serva aggiungere altro, fatemi sapere nei commenti se quest'anno dovrei fare il video anche sulla giornata degli uomini e per il resto noi direi che ci becchiamo alla prossima!